Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo finalmente raggiunto il traguardo ai 1000 iscrits, abbiamo superato le 4 cifre oggi, incredibile sì, non ci posso credere. Allora, non voglio mentirvi, non vi mentirò. Questo video sarà senza tagli e sarà veramente lunghissimo. Ok, stavo scherzando, io ho detto 3 bugie in giro di 10 secondi. Scherzi a parte. Grazie veramente a tutti, ringrazio veramente tutti perché moltissimi utenti sono stati di supporto. Grazie a questa piattaforma ho potuto conoscere tante persone veramente simpaticissime con cui anche ho collaborato. Ad esempio Enea del canale di Ma Cosa C'entra, Ludovica, Leonardo, Davide. Insomma, vi lascerò come premio per tutti voi i loro link in descrizione. E soprattutto mi ha dato una mano veramente incredibile la collaborazione con Guers, che sto continuando a portare avanti. Sì, veramente, è stato gentilissimo. Infatti, non so se lo sapete tutti, ma ho fatto già due video sul suo canale e lui ha intenzione di portare avanti una certa idea veramente particolare, che io personalmente trovo bellissima. Ma vedrete voi col tempo. Detto questo, sì, abbiamo superato le quattro cifre, io pensavo di raggiungere i 1000 iscritti forse l'anno prossimo e invece in pochissimi mesi siamo arrivati a questo traguardo. Non lo so, voi dite che me lo merito? Penso di impegnarmi parecchio per portare una certa qualità video, che non si vede spesso, non si vede spesso neanche in canali molto famosi su questo, su questa categoria più che altro. Almeno non in Italia, in questo intendo, perché all'estero mi scagano qua. No, scherzi a parte, veramente, non me l'aspettavo. E spero di raggiungere altri traguardi, veramente, nel breve, proprio nel minor tempo possibile, perché mi impegno tantissimo e questi sacrifici, quando vengono ripagati, è veramente una soddisfazione incredibile. Io non so come ringraziarvi tutti, anzi, voglio dirvi che come premio per questi 1000 iscritti potrete farmi tutte le domande che volete, ricordatevi che giù in descrizione, oltre ai link dei canali amici troverete anche il link per il mio gruppo Facebook dove possiamo parlare di tutto. Non solo per le homescreen, tutto, proprio tutto. E soprattutto venite in tanti, perché lo apprezzo veramente tantissimo. Detto questo, ragazzi, penso di aver detto quello che mi sentivo. Eh, sì, perché alla fine è un video ringraziamento più che altro, non un proprio update del canale. Sì, voglio portare una serie nuova che vedrete presto, una cosa sui tutorial molto, spero che gradirete molto più che altro. E detto questo, noi ci salutiamo. Ricordatevi, come sempre, di lasciare un like o un dislike, perché vi spiego. Quando voi non commentate e non fate esattamente una cippa, il mio video è morto, perché non succede nulla, non sale nelle ricerche, non viene visto da nessuno. Quando voi lasciate un dislike, diciamo che ha lo stesso valore del like, ma se lasciate il dislike, allora nei commenti fatemi sapere perché, perché io così riesco a migliorarmi e capisco cosa agli utenti non piace. È una cosa che apprezzerei veramente tantissimo, spero riusciate a capirmi, perché è questo. Noi ci salutiamo qui, ricordate di attivarvi, commentate, fatemi sapere tutto quello che pensate, tutto quello che vorreste, tutto quello che pensate di nuovo. Detto questo, ci salutiamo davvero stavolta. Ciao ciao ragazzi. Ah, iscrivetevi. E attivate la campanellina per ricevere le notifiche. Sì, di solito, Ruti. Bye bye. Ciao.